Ciao a tutti, oggi dobbiamo denunciare una cosa gravissima che sta avvenendo proprio in queste ore. Ieri abbiamo ricevuto da alcuni genitori di una scuola elementare del centro di Roma questa circolare, questa circolare che è stata inviata loro dalla dirigente scolastica, dalla preside della scuola, con preghiera peraltro di diramare a tutte le famiglie. Questa circolare è un gesto gravissimo, la preside abusando dei suoi poteri diffonde allarmismo e terrore tra le famiglie e tra i genitori, perché dice che a partire dal prossimo anno scolastico, da settembre 2015, verranno attivati in tutte le scuole di ogni ordine e grado corsi di educazione sessuale per i bambini fin dagli zero anni, quindi fin dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola primaria. Chiaramente tutto questo non è vero, è falso, semplicemente. Non esiste nessuna proposta di legge in Parlamento, tantomeno che sta per essere approvata, che voglia introdurre l'educazione sessuale nella scuola dell'infanzia, negli asili e nella scuola elementare primaria e soprattutto che miri ad una sessualizzazione precoce dei bambini. Questa circolare è tendenziosa perché peraltro cita un documento, un testo scientifico che è stato redatto nel 2010 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che nulla ha a che vedere con le proposte di legge presenti in Parlamento. Questo atto è gravissimo, noi abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere che il Ministro ci renda noto se esistono altri casi in Italia di abuso d'ufficio come questo e che prenda provvedimenti disciplinari nei confronti di questa dirigente scolastica. Ma l'allarme vero è rappresentato dalla buona scuola, e cioè dal fatto che se verrà approvata dirigenti scolastici come la signora in questione avranno il potere di scegliere in maniera del tutto arbitraria i loro docenti e di mandarli via dalla loro scuola, se non la penseranno come loro semplicemente, lo faranno, sceglieranno i docenti in base alle loro convinzioni ideologiche, politiche e religiose. Tutto questo è gravissimo e noi non possiamo assolutamente permetterlo.